Hello guys, benvenuti in questo video. Lo so, avrei dovuto caricare un'altra deck profile, ossia quella del Cyber Drago per il formato Edison, tuttavia su Cartrader non sono arrivate le carte che mi servono appunto per portarvi la deck profile in real perché ci tengo appunto a farla dal vivo. Ma nel frattempo, prima di portarvi appunto la deck profile di Cyber Drago e ovviamente di Naturia che è compreso nello stesso pack delle carte del Cyber Drago, ho deciso di caricarvi nell'attesa questa deck profile un pochettino spicy perché lo sapete, mi piace un po' distanziarmi dal meta e voglio portarvi roba strana che, ripeto, ovviamente non è un T1, non è il mazzo invincibile, ma sono quei mazzi un po' proprio strambi che sono divertenti da giocare. Il mazzo in questione, come potete leggere, è quello del Mouse Olympus o Control, come vogliamo chiamarlo insomma, che si basa su una carta decisamente iconica della serie o quantomeno per quanto riguarda noi vecchi maledetti, che ci permette diciamo di evitare di usare il tributo pagando invece dei life points per calare appunto i nostri ciccioni dalla mano, e no, non è body shaming. Di conseguenza all'interno del mazzo ho cercato di inserire delle carte un pochettino spicy, è migliorabile ovviamente la lista, però io appunto mi diverto a giocarla in questa maniera molto molto ignorante, e ora andiamo a vederla assieme pian piano. Prima di continuare però, se sei un vecchio come me o semplicemente ti affascina il vecchio mondo di Yugi, quindi il retroformat e ti interessano l'unboxing di prodotti vintage, che siano coreani o anche abbastanza vecchiotti, iscriviti al canale, costa pochissimo del tuo tempo, ma soprattutto supporta un sacco il mio lavoro. Quindi, detto questo, vado a fare un'introduzione un po' al mazzo, con le carte che ho inserito, che sono appunto quasi dei floor gate per eccellenza, ossia quelle carte proprio che ti rompono i p***i. Iniziamo con il Light and Darkness Dragon, che teoricamente nega tutto una volta per catena, e ogni volta che va a negare perde attacco, poi se viene distrutto spacca tutto sul tuo terreno e ti evoca il mostro nel cimitero. E lo deve evocare, quindi potrebbe sinergizzare con qualche ciccione che abbiamo nel cimitero. Ovviamente la nostra meccanica principale sarà quello di fare proprio gli ignoranti, ma letteralmente, con mausoleo, e calare, diciamo, la carta che ci capirebbe in mano, più adatta anche a quella situazione. Di conseguenza abbiamo ovviamente Light and Darkness e Cristia. Per continuare però modifichiamo anche la Bundle, ecco, così è più professionale. Dicevo, Cristia che nel formato Edison è appunto a tre copie, il mazzo bricca un sacco, ve lo dico, però ripeto, è carinissimo da giocare qualche volta. Che vi devo dire? È livello 8, 2008, che non fa affare special a nessuno, e soprattutto può essere anche evocato specialmente tramite Light and Darkness Dragon, in caso che appunto dovesse trovarsi lì dentro. Poi abbiamo due Gagiltron, che ovviamente per chi conosce un minimo la meccanica di Gagiltron e Gear Town può capire il motivo per cui stia dentro al mazzo. È un livello 8, 3000, quando picchia l'avversario non può attivare carta di magia e trappola alla fine della Magistep. Solamente due copie, perché appunto la Gear Town ci permette di ciclarlo un po' dappertutto, dalla mano, dal deck e dal cimitero, e non giocando diciamo il reparto macchina, che potenzialmente ragazzi potreste anche giocare all'interno di questa lista un po' spicy, per renderlo anzi addirittura più forte secondo me, più consistente anche se potreste perdere la normal, ma più consistente obiettivamente, va bene in due copie, e poi gioco anche il Curatz. Il Curatz, diciamo a differenza degli altri Monarchi, ha una piccola particolarità. Mentre gli altri Monarchi, diciamo per triggerarsi, hanno bisogno dell'evocazione per tributo, che è diversa da quella normale come appunto indicata, Curatz semplicemente con l'evocazione normale o speciale può attivare il suo effetto, che è quello di distruggere fino a due carte sul terreno, e il proprietario delle carte distrutte pesca due carte. Dopo essere stata evocata questa carta non può attaccare. Diciamo che giustamente potreste dire, sì ma spacco le carte dell'avversario, lui pesca, o se mi spacco le mie potrei andare in meno. No, assolutamente no, diciamo è sensata perché appunto funziona con la Gear Town. Ci andiamo a spaccare la nostra Gear Town, o il target che ci interessa, magari facendo controllo appunto sul terreno. Quindi è veramente molto forte, sinergizza molto bene, anche perché segue un po' la logica del KFC e non i panini. Inserendo altri ciccioni che cagano il cazzo, ci sono i Dark Seamork. I Dark Seamork, che per chi conosce il canale, è una delle mie carte preferite del formato, ed è soprattutto, secondo me, una delle carte più sottovalutate, perché base è un mostro caos, ma utilizza gli attributi vento e oscurità. Diciamo che il nostro obiettivo non è appunto quello di evocarlo special, pensi di evocarlo per farlo in modo tale da evitare che l'avversario possa settare carte, cosa significa che non può settare non solo magie e trappole, ma anche i mostri, quindi fare control totale con questo coso. E infatti in un'altra versione che sto testando, lo sto facendo tramite le ultime offerte, che è vero che ti mandano giù di un bel po', riesci a fare una log totale potenzialmente. E a proposito di questo, continuo con i Bandits Fiend, che ne gioco due, praticamente fanno la stessa cosa di Cristia, solo che sono un livello 6 e sono un target Dark. E poi gioco Mono Ginso, che inizialmente giocavo a due, come potete anche notare dal side, ho spostato il secondo nel side, perché caso che dovessimo trovarci anche contro Monarch, o mazzi che, diciamo, non sfruttano tante trappole, potrebbe essere un po' briccone. Sì, è vero che potrebbe essere sempre un target di Allur, mi trovo meglio così. Poi gioco una Tragueria, perché per sicurezza, appunto, è meglio pararci un po' da alcuni danni. Non gioco Gorze, perché appunto, andiamo principalmente ad avere la terreno, sul terreno, scusate la ripetizione. E soprattutto può essere molto forte, perché abbiamo appunto il livello 6, quindi possiamo rubare Kaius all'avversario, ma soprattutto anche Synchromus il livello 8, che non ci fa schifo, o nel caso anche il Maestro Armatural Nero, dato che il Dark Seymour è del livello 7. Poi gioco Mono Vanity's Ruler, che è un livello 8, ed è praticamente il Vanity's Fiend più pompato, soltanto che è un livello 8. E come, diciamo, scelte un po' più spicy, gioco lui, che vorrei portare forse a due, e a proposito di questo, il mio consiglio è togliere o l'ultima carta dei mostri, che vi mostrerò a breve, però fa figo giocarla, oppure togliere lo Yamata Dragon, o l'altro Jinzo, o il Vanity's Ruler. A voi la scelta. Ripeto, questa è una prima versione di questa tipologia di mazzo. Quella forse con le ultime offerte, è forse quello un pellino più forte fra quelle che ho provato. Comunque, ritornando su di lui, praticamente cosa succede? È uno Spirit, quindi vi ritornerà in mano ogni volta l'end face. Tuttavia, se questa carta infligge danno da battaglia al tuo avversario, l'avversario scarta tutte le carte che ha in mano prima della draw face, quindi prima che va a pescare. E non fa proprio così stifo. Mentre lo Yamata Dragon, al contrario quasi potremmo definire, quando fa danno da battaglia all'avversario, tu peschi fino ad avere cinque carte nella tua mano. Quindi un po', un po' due facce della stessa medaglia. E infine, dato che abbiamo mostri di livello molto alto, ho detto, ma perché non giocare e azzardare con questo bel ciccione? Il Drago Montaggio. È una delle carte di nicchia di Yu-Gi-Oh! 5Ds che però hanno caratterizzato l'anime, mi sembra, apparire nelle prime puntate. È una carta che a me è sempre piaciuta, non è così tanto forte, però per l'appunto in questo mazzo potenzialmente potrebbe essere un bel ciccione che ti potrebbe chiudere direttamente il game, avendo tanti livello 8 all'interno del mazzo. Quindi perché non giocarlo per l'appunto? Certo, se si becca books o cazzi. Quindi per quello fate come volete. Io mi diverto a giocarlo così. Poi mi sono scordato di mettere in ordine le spell, ma vabbè. Abbiamo Allure of Darkness, Brain, che è la carta più rotta di sto gioco, cioè di sto formato. Card Extraction, perché per l'appunto, come vi dicevo, è un mazzo che bricca molto facilmente, quindi se abbiamo l'occasione di sfoltire la mano non ci fa schifo. Poi abbiamo tre Gear Town e tre Mausolei. Il Mausolei ho già ve l'ho introdotto. La Gear Town semplicemente si possono evocare i mostri in granaggio antico con un tributo in meno quando è scoperta, ma la cosa forte è il secondo effetto per l'appunto che quando questa carta viene distrutta e mandata al cimitero possiamo evocare specialmente un ingranaggio antico dalla mano, dal deck o dal cimitero che ovviamente è il nostro Drago Gagiltron. Per aiutarci a togliere Backrow ma anche sfruttare la Gear Town abbiamo la Eevee Storm e il Tifone e in vista delle tante terreno ho aggiunto ovviamente tre Terraforming, tre Trade-in dato che abbiamo tantissimi livello 8 e tre Upstart Goblin perché questo mazzo vuole giocarlo a 37 carte tra virgolette. L'extra non ci vorrei dare troppa attenzione quindi andrò molto velocemente perché diciamo raramente andremo a sfruttarlo quindi cambiatelo in base alle vostre esigenze quanto invece mi spinge più spiegarvi il Side che secondo me ha più senso. Non tanto per la classica luce consacrata non tanto per il Cyber Drago il Jinso l'abbiamo già detto ma ve lo ripeto e ho voluto mettere il secondo che giocavo di main l'ho spostato in Side e mi sono trovato un pochettino meglio e poi gioco 3 Zombie World e 3 Necrovalle potenzialmente potreste giocare a 3 anche Necrovalle perché questa carta è molto molto forte la Necrovalle è fortissima contro Bio praticamente vi ricordo che questa dovete prendere in considerazione l'errata quella vecchia da Turbo Pack 2 mi sembra andatevi a vedere magari il video inerente alla decklist custode di tombe inerente al formato Edison se volete maggiore informazione riguardo Necrovalle in Edison e in Tenku Plant vado ad accennare le cose principali e Zombie World anche contro Monarca quindi queste due carte secondo me sottovalutate e meno giocate nell'ultimo periodo nel formato io ho voluto inserirle soprattutto perché appunto abbiamo 3 Terraforming che praticamente sono carte di side searchabili e non è che fa schifo anzi poi gioco 2 Nobiluomini perché carte magari come Rico possono un po' dare fastidio 2 Lighting Vortex perché perché diciamo magari anche la combo di rana quando ti mette le due Deep Frog può darci fastidio e poi vabbè ho messo anche una Super Poli per sfruttare diciamo i mosti dell'avversario e la carta è fortissima che ve lo dico a fare io ragazzi vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto poi faccio vedere al volo altre due versioni di quelle appunto che sto provando molto diciamo appunto in fase di testing ma vi danno un'idea generale di quello che sto facendo con il mazzo sì questo continuo a tenerlo ma con le ultime offerte potrebbe cozzare un bel po' quindi vi sconsiglio di giocarlo meno in questa versione e un'altra carta carina interessante per questo mazzo potrebbe essere la Star Blast che praticamente è come se facesse da quarto mausoleo che potreste giocarlo a uno due copie tre forse un pochettino troppo però appunto si testa si gioca ci si diverte fate un po' come cacchio volete vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto e soprattutto se ti piacciono questo tipo di contenuti e spero di vedere il prossimo video con l'unboxing dell'ordine del car trader che è abbastanza abbastanza corposo ma soprattutto con le tech profile del cyber dragon e del naturia lock perché sono due tech list che ci tengo tanto a portarle in qui su youtube grazie ancora e arrivederci al prossimo video see you next time wew 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 Grazie.